Salvini, lei ha definito le donne che abortiscono con uno stile di vita incivile, no? Non hai capito niente. Però è quello che ha detto al fatto. No, non hai capito niente. Non mi sono risentita soltanto io. Se uno arriva alla settima interruzione di garvidanza vuol dire che sbaglia a stile di vita. Aspetta leggi di carta. No, allora ti dico che io sono d'accordo con i medici che dicono la donna è libera di scegliere. Se io vedo la stessa persona, nell'arco di poco tempo, che mi viene a chiedere la settima interruzione di gravidanza, evidentemente bisogna spiegare a questa signora come ci si comporta. No, non aspetta a lei spiegarglielo. Ti sembra normale? Una persona è libera di fare ciò che vuole della propria vita, soprattutto una donna. Sette interruzioni di gravidanza? Può farlo se vuole. Sai che fa male alla salute? Però se vuole può farlo. Non lo consiglio. Se vuole può farlo. Sì, ma non lo consiglio. È previsto anche dalla legge. Tu consigli sette interruzioni di gravidanza? Io consiglio a una donna di fare ciò che vuole. Vediamo una maniera diversa.